Il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi in audizione all'ottava commissione alla Camera. La legge di conversione del decreto sisma è l'ultima occasione, ha spiegato il primo cittadino per dare risposte concrete a territori che ormai da anni pongono questioni che ciclicamente tornano all'attenzione del legislatore nazionale. All'audizione hanno partecipato amministratori e rappresentanti delle categorie produttive delle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016-2017. Abbiamo segnalato a numerosi parlamentari, ministri ed esponenti del Governo le nostre necessità contenute negli emendamenti che di volta in volta abbiamo presentato. Le esigenze sono quelle relative allo snellimento delle procedure per la ricostruzione pubblica e di rivedere alcune norme su quella privata. Oggi troppe categorie sono escluse dal contributo, mentre le stesse in occasione di altri eventi sismici come quelli dell'Emilia Romagna o che hanno colpito le zone centrali del Paese tre anni fa sono state ammesse al finanziamento. C'è poi il tema del personale, centrale secondo il Sindaco. Ad oggi la pianta organica del Comune è la stessa del 31 dicembre 2008 perché il saldo tra assunzione e pensionamenti, quiescenze o mobilità è pari a zero. Una situazione difficilmente gestibile con un territorio di 480 km2 e circa 7.000 alloggi realizzati dopo il terremoto da amministrare a cui si aggiunge la quotidianità degli uffici. Chiediamo delle deroghe, spinge Biondi, per poter stabilizzare i dipendenti che da dieci anni vivono da precari, assumere personale dirigenziale. Infine occorre, secondo Biondi, che il Parlamento intervenga sul problema delle tasse. Cento aziende sono state chiamate a restituire delle somme allo Stato italiano a seguito dell'apertura di una procedura di infrazione avviata dall'UE. A queste si chiede di rendere in un'unica soluzione circa 80 milioni di euro. Molte saranno costrette a chiudere solo perché hanno applicato quanto disposto da una legge italiana. La questione non è più rinviabile, vista l'imminente scadenza del 31 dicembre, data in cui scadrà la proroga per la presentazione da parte delle aziende coinvolte della documentazione per restituire i tributi e imposte sospese dopo il sisma. La nazione ha bisogno di una visione d'insieme, dei problemi legati alle calamità, alla gestione delle emergenze e alle ricostruzioni, uno scatto culturale che auspicabile arrivi al più presto.